Miranese ancora sotto assedio. Continuano i furti messi a segno nei vari comuni, tanto da spingere il sindaco di Martellago a chiedere un incontro al prefetto Domenico Cuttaia, un incontro che si terrà nella giornata di domani e che coinvolgerà tutti i sindaci del comprensorio preoccupati dall'aumento dei furti nelle ultime settimane. A Martellago si è già costituito un comitato di cittadini per provare ad affrontare il problema della criminalità che ha invaso il territorio. Obiettivo dei cittadini è avanzare delle proposte direttamente al prefetto. Di certo non potranno chiedere un aumento di controlli da parte delle forze dell'ordine, dopo l'allarme lanciato dal capo della polizia Alessandro Panza, che ha dichiarato come lo Stato oggi non sia in grado di accrescere la sicurezza in nessuna parte del territorio. Anzi, il capo delle forze dell'ordine ha affermato come non sia pensabile di offrire lo stesso servizio di sicurezza al cittadino di qualche anno fa, con il numero di uomini e di risorse in continuo calo. E mentre diminuiscono le risorse, i furti e le rapine sono in aumento in tutta Italia, con Venezia che ha visto una crescita del 14% dei furti in abitazione e del 24% dei furti negli esercizi commerciali nel mese di agosto. Situazione che non può far altro che aumentare l'insicurezza tra la popolazione e favorire nuove forme di tutela, con la nascita di gruppi che cercano di dare un contributo all'eliminazione della microcriminalità o quantomeno a ristabilirsi di un senso di sicurezza per i cittadini. E questo è ciò che ha mosso un gruppo di ventenni mestrini che si sono riuniti nel comitato SOS Mestre e che operano nelle zone calde della città, osservando ciò che accade anche attraverso segnalazioni che arrivano via e-mail o attraverso Facebook, ed informando tempestivamente la polizia su ciò che accade nelle strade di Mestre. Un aiuto alla cittadinanza e alle forze dell'ordine, insomma, provando a supplire a ciò che lo Stato non sembra più in grado di fare, come testimoniato dall'allarme lanciato dal capo della polizia a Pansa al mondo della politica e al ministro dell'interno Angelino Alfano.